ho incontrato il dottor conati dopo un lungo percorso a 12 anni ho perso mio papà e praticamente il passo successivo è stato aver diagnosticato la sclerosi multipla e praticamente non riuscivo più a muovere la parte sinistra del corpo quindi non riuscivo neanche a stare in piedi, non riuscivo neanche a mangiare non riuscivo completamente dipendente da un'altra persona se volevo sopravvivere doveva essere così ho fatto quattro mesi all'ospedale mi ricordo e dopo sono riuscito a trovare un equilibrio grazie alle terapie convenzionali quindi cortisone, terapie sperimentali perché comunque quando vai all'ospedale è sempre una cosa, ogni caso che entra all'ospedale è una cavia quindi loro fanno di tutto per trovare nuovi metodi per chiamare altre persone quindi è andata così questa storia è andata avanti per tutto il periodo delle superiori quindi dai 12 anni sono arrivato alla maturità e fatta la maturità nel 2017 ho incontrato tramite la mia sorella Elisa il dottor Conati che mi ha subito dato una via per stare meglio lui mi ha dato una serie di suggerimenti che mi facessero capire l'origine del problema e sono riuscito a prendere consapevolezza di tutta una serie di cose di tutta una serie di spazzettature che erano incluse in tutte le cose che il dottore spiega e scrive nelle sue dispense infatti quindi da un anno a questa parte ho notato dei miglioramenti veramente sostanziosi perché adesso riesco a camminare sono tornato a correre certo per brevi periodi nel senso che per una distanza diciamo minima però rispetto a prima è tutta un'altra cosa perché prima non mi fidavo di correre perché cadevo a parer mio la consapevolezza va abbracciato anche con una conoscenza quindi gli anni che sono passati serviti a qualcosa quindi io ringrazio che in questo periodo ho imparato tanto grazie al dottor Conati grazie a Ferdinando e grazie a lei Elisa e grazie a te stesso grazie a me stesso grazie a tutti voi perché mi avete insegnato tanto terribile non riuscivo neanche a stare in piedi mi ricordo la seconda volta che io sono andato in Albania all'andata perché dovevo andare da Gianni perché lui aveva sentito tramite Elisa che io non riuscivo a muovermi e quindi praticamente mi ha detto vieni qui in appartamento che rifacciamo il percorso io mi ricordo che lì cioè non riuscivo neanche a montare in aereo mi hanno dovuto portare su di peso in aereo poi poi sono stato là due settimane e è cambiato tutto nel senso sono tornato a casa tranquillo mi sembrava avere passato tutto passato tutto mi sono fatto due chilometri quando sono arrivato a casa a piedi grazie a tutti Grazie a tutti.